Ancora un'effrazione per il bar della stazione di San Giovanni. È la seconda volta nel volgere di tre settimane e la quinta negli ultimi 18 mesi per l'esercizio. Come anche nelle circostanze precedenti, il motivo del furto è relativo alla presenza degli slot machine all'interno del bar. In questa circostanza, attorno alle tre di notte, tre individui dal volto coperto hanno spaccato un vetro ed asportato una delle macchine da gioco, trascinandola poi di peso per l'intero percorso del marciapiede della stazione stessa, fino alla parte opposta, ove lungo i binari, hanno forzato poi la serratura, recuperando la refurtiva quantificata dal gestore del bar in poco meno di 600 euro. Impossibile per il momento risalire all'identità dei malviventi, che hanno aperto anche la cassa del bar, non trovando all'interno però che pochi spiccioli, ma distruggendo l'apparecchio che necessita di sostituzione. Dopo le frazioni attraverso le sbarre già effettuata lo scorso anno, ecco dunque una nuova azione ancora più violenta da parte di malviventi, impossibile il controllo anche per la sezione Polfer, che è a pochi metri ma che non è operativa, con personale in servizio a tardanotte.